GIGLIOTTINA Vediamo la bigliettina guarda prendo la bigliettina vediamo come uscire lui arriva esco ci sono vari modi esco vado butto a terra ok va bene se per 100 kg se per 40 kg se per 40 kg se per 40 kg hai voglia di andarlo a prendere di portarlo a terra ok semplici in strada quella cosa semplice funziona lui mi prende subito testicoli gomito gora ok subito uno due vado ok ok vieni esco 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 ok anche qui anche qui c'è sempre la difesa del corpo mi prende e fai lo stop così questo lavoro ok subito e con la mano porto via pressione subito colpisco testicoli automaticamente il volto si abbassa e salgo e poi e poi vado distrutto ok ultima volta uno due tre quattro e questo uno due tre testicoli alzo e vado nel collo eh carote boom boom poi da qui finita va va tro cow u u u u u u